sono le 13 e 18 ci sono 12 gradi ex stazione ferroviaria di grignasco eccoci qua le penne nere a Grazie. 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 E' tutta bella così fino sopra? Grazie. Ciao. Porca miseria, dal tubo mi sembrava elettrica. Hai fatto tutto sulla bici? Bravo, bravo. Ammatti, non so come fai. Ah no, no, non solo un po' di allenamento. Fai anche se riesci a trovare questa croce. Quella lì che ti ho detto prima. Come dicevi prima. Lì vedi benissimo il Pirellone, vedi Milano, che è una collinetta delle balle. Ma non so, io l'ho vista, poi l'ho vista sta roba. Rimane sopra la bocca. Ah, ecco. Sei piena di sotto. Tu che giro fai adesso? Adesso scendo, scendo di nuovo di qui. Ciao. Ciao, buone pedalate. Piacevole conversazione. Un grande pedalatore. Ciao, buone pedalate. Ciao, buone pedalate. Grazie. Il parco Monte Fenera e i suoi amici ricordano Luigi Sertorio che riposa nell'eterna gloria del Parco dei Cieli, 17.04.1995. C'è una croce per qua? Sopra qua. Ah ok, grazie. Spettacolo, anche qua. Sopra qua. Beh allora se andate giù voi, vi seguo. Se voi andate, lasciatemi pure andare. Se mi perdete, se mi perdete, non preoccupatevi di me, voi andate alla vostra città. Sopra qua. Questa è la strada adesso. Sono entrato in pieno in una careggia e poi si è puntata davanti. Sì. Eh, ora qui. Vado via a vedere? Qua non so come fate voi. Io non ce lo farei mai. Eh. Vado via? Ok. Qua non so come fate voi. Io non ce lo farei mai. sui dritti di qua come faccio io? fa 100 km no per carità per carità lui è il professionista io no o o come io ecco è bello scassatino comunque sì va bene poi di lì mi riattacco la traccia mi sembra no figurati ma vi disturbo allora però ripeto se vi disturbo che vi faccio ritardare non aspettate mi devo portare sulle spalle magari un pochino ok va bene va bene molti divertiti un pochino Sì, è stato un po' di là, è stato un po' di là Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ti vorrei vedere che non la sblocco adesso. Vorrei vedere che non la sblocco. Che bravo. Non hai vergogna di dirselo. No. Non hai vergogna, no? No. Ce lo devo discutere sempre. C'è tutto l'opposto di quello che faccio io. Sì, ma io non sono ciclista, te l'ho già detto prima. E lui mi ha detto che sei un professionista. Sblocco. 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 Grazie a tutti. Beh, se tenete un ritmo così non è che io posso andare tanto di più. Se non abbiamo una piantita, vai, vai. Eh, vabbè, quello non è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.